In un tegame versate l'olio e lo scalogno, lasciatelo soffriggio a fiamma medio-bassa per qualche minuto. Dopo aggiungete le zucchine tagliate a julienne, salate, pepate e cuocete per pochi minuti. Aggiungete i gamberi sgusciati, cuocete per pochi istanti e dopodiché potete sfumare con il vino rosato. Aggiungete lo zafferano precedentemente sciolto in acqua calda. Aggiungete la panna fresca liquida solo qualche istante prima di spegnere il fuoco. Nel frattempo cuocete la pasta beruto mafalde nella pentola con acqua bollente salata precedentemente. Impiattate con l'aiuto di un coppapasta in senso orizzontale sia le mafalde della pasta beruto che le zucchine a julienne per creare delle ondine di zucchine, gamberetti e zafferano. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS